Pillole di non solo suoni, la storia della musica passa da noi. Ci sono date che rimangono scolpite nella storia, come il gennaio del 1973, esattamente era il 5 gennaio di 50 anni fa quando usciva quello che sarebbe diventato l'album d'esordio di un grande artista ancora oggi attivo. Parliamo infatti di Greetings from Asbury Park, New Jersey, di Bruce Springsteen. All'epoca era costato una manciata di dollari e uscì nei negozi fisici rappresentando il via a quella che sarebbe diventata una gloriosa carriera del cantore delle strade americane, l'erede di Bob Dylan, la voce roca della via di mezzo, quello che insomma ha scritto The Ghost of Tom Jod. Il 2 maggio dell'anno precedente va ricordato, Springsteen e il suo manager Mike Apple entrarono negli uffici della Columbia di New York per un'audizione con quello che era il leggendario produttore John Hammond. Era lo scopritore, per intenderci, di Dylan, di Aretha Franklin e di altri artisti di questo calibro. Ed era l'occasione per Bruce Springsteen, a 23 anni, la stessa età alla quale Paul McCartney qualche anno prima scrisse Eleanor Rigbe. Ma c'era anche un altro problema, l'etichetta e il nuovo manager volevano un album solista, cioè voce e chitarra acustica, insomma un folk singer. Si giunse però un compromesso che forse ha fatto anche la storia per il boss, come è soprannominato. L'album sarebbe stato diviso in due, fra canzoni suonate con la band e altre appunto solo in versione acustica con la chitarra elettrica di Springsteen, che si avverte soltanto in Blinded by the Light. Un altro scoglio poi superato fu il piano iniziale della Columbia, che voleva promuovere Springsteen come il cantautore di New York. Il progetto in effetti era quello di creare il nuovo Bob Dylan, ma il boss si oppose e pretese che nel titolo ci fosse un riferimento al posto in cui era nato, appunto, a Hesbury Park, che è meta di vacanze nel New Jersey. Una, insomma, una contrapposizione che poi però gli è valsa, come dire, anche in carattere oltre che nel successo. In realtà l'album Greetings inizialmente aveva venduto poco, solo 25.000 copie nelle prime settimane e persino a casa sua, per così dire, a Freehold, una città industriale a pochi passi dal mare di Hesbury, le vendite non andavano granché. Ma piaceva comunque il sound, nonostante la copertina, altro scoglio, per cui l'art director John Berg si ispirò a un popolarissimo stile di cartoline diffuse soprattutto tra gli anni 30 e gli anni 50 negli Stati Uniti. Ebbene, l'attesa però fu ripagata, perché nell'estate del 1975 l'album finì in classifica su Billboard, tirando poi la volata a The Wild, The Innocent and The East Street Band Shuffle. Stava per arrivare, insomma, Born to Run e poi nulla, sappiamo, sarebbe stato più come prima. Però in quel lavoro d'esordio, anche se non c'era ancora quella potenza di Born to Run, c'erano comunque molte storie del boss. La rivista Rolling Stone nel 2003 ha inserito quel disco alla posizione numero 379 nella lista dei 500 migliori dischi di tutti i tempi. E nella classifica dei migliori esordi, eccola alla posizione numero 37. Ma anche se fosse rimasto un flop commerciale, è stato comunque l'inizio di Bruce Springsteen. E allora eccolo, quell'album con la seconda estratta Growing Up, una canzone che è appunto una delle composizioni presentate da Springsteen durante quel provino del maggio del 1972.